Salve a tutti Blazers, bentornati in un nuovo video e benvenuti in una nuova mod review, non della domenica ma del sabato. Perché la mod review il sabato? Perché ragazzi, domani ho deciso che non pubblicherò video così come non ne ho pubblicato uno ieri. E quindi anticipo la mod review. Ne avevo già parlato nel post community che ho messo ieri, però vi accenno rapidamente il fatto che durante il mese di maggio, in alcune giornate, salterò la pubblicazione del video. Ho detto che c'è anche il secondo canale, ora ci sono le live, quindi c'è almeno un contenuto quotidiano. Vi volevo comunque avvisare che farò questa cosa sia per prendermi un po' di tempo per rilassarmi durante il mese di maggio, sia soprattutto per avere più tempo libero per lavorare i nuovi progetti che sto preparando per il prossimo mese, ma non solo. Ragazzi, oggi ci occupiamo di una mod che è bellissima. Ora, vi prego, guardate il video dall'inizio alla fine, perché ogni feature di questa mod è qualcosa di davvero bestiale. Questa mod si chiama Immersive Portal e non solo si occupa di portali, infatti partiremo vedendo come si crea un vetro funzionante, uno specchio, non un vetro, uno specchio funzionante. Dunque, prendiamo un acciarino e droppiamolo per sbaglio, giustamente prendiamo dei pezzi di vetro e l'acciarino appunto e un messaggio su Whatsapp, giustamente. È incredibile come mia madre riesca a scrivermi sempre solo se sto registrando o se sono in live. Comunque, preso il blocco e l'acciarino, andiamo a mettere dei blocchi di vetro e con l'acciarino diamo fuoco a uno di questi blocchi. Facendo ciò, in realtà lo devo mettere sopra però, facendo ciò l'intera superficie connessa di vetro diventa uno specchio. Ora, in questo caso abbiamo sopra il fuoco che si dovrà spegnere con calma, ma già vedete l'effetto. Come state vedendo, è diventato, cioè guardate che figata, come riflette le montagne, tra l'altro ho trovato un seed fighissimo, è diventato uno specchio. E non solo riflette il cielo, le montagne, ma anche me stesso, gli temi che ho in mano, riflette tutto quanto quello che c'è da riflettere. Guardate che spettacolo. Per avere un'idea migliore, adesso avevo fatto lo specchio così perché mi piace l'effetto che fa quando riflette il cielo, ma possiamo andare chiaramente a fare uno specchio in verticale. Quindi ci mettiamo qui, andiamo a dare fuoco al blocco centrale, ma possiamo fare come vogliamo e... Sbam! Ragazzi. Sta andando a fuoco la savana, perfetto. Abbiamo uno specchio funzionante in Minecraft. Wow, guardate che figata, riflette tutta la perfezione e ha una profondità incredibile. Avevamo già visto una mod che fa un po' questi effetti in passato, ma questa, diamine, ha un dettaglio incredibile. Cioè, guardate, riflette tutto, tutto, tutta la profondità di chunk che ho impostato. E sì, ovviamente appesantisce le risorse e fa laggare un po'. Però non è neanche così pesante la situazione. E ovviamente, essendo che sono riflesso, la mia schiena è il contrario. È tutto il contrario. Come vedete, posso vedere il mio riflesso nello specchio. Ora però, facciamo implodere questo mondo. Perché, se è vero che uno specchio è gestibile, potrebbe diventare problematico quando andremo ad aggiungere un secondo specchio qui dietro. Perché, ragazzi, cosa succede se metti uno specchio contro uno specchio? Ovviamente, si crea un loop. E infatti, guardate, lo specchio dentro lo specchio dentro lo specchio dentro lo specchio non è infinito. Nel senso che una certa si perde, però l'effetto è fantastico. Guardate che casino. E che succede se ne metto altri due? Ragazzi. Mettiamo specchi anche qui. Tac. E andiamo ad attivarli, ragazzi. Qua facciamo esplodere tutto! Oh mio Dio. Ha tirato una laggata epica. Guardate. Guardate, sta laggando tantissimo. Ora, io non azzardo fare nient'altro. Ma potremmo addirittura metterne uno a terra e uno sopra e creare una stanza specchio. Però qui il lag diventa pesantino, eh. Vi dico la verità. Passiamo ora alla seconda feature. I portali. Si parlava di portali immersivi e quindi vediamo che cosa significa. Forse già avrete capito o avrete immaginato che cosa potremmo fare. Se mi seguite su TikTok, dove non pubblico da mesi comunque, avevo fatto un TikTok con un trip di portali fatto proprio utilizzando questa mod. Quindi magari qualcuno da quel social potrebbe aver già visto qualcosa. Se infatti io vado a creare un portale, non si genera subito il portale, ma inizia a caricare in chunk perché il portale genera il nether in maniera diretta. Non c'è alcun cambio di dimensione. Noi stiamo guardando... Vedete? Fuori c'è il mondo reale, ma guardando nel portale c'è il nether. E se giro dietro c'è il nether dall'altra parte. Quindi in questo momento il gioco sta caricando le due dimensioni in maniera che io possa entrare, uscire quando voglio senza caricamenti e addirittura vedere cosa c'è dall'altra parte. Ragazzi, è una roba fenomenale questa. E se adesso andiamo nel nether e andiamo a generare un altro portale tipo, che ne so, qua. Mettiamo un altro portale. Possiamo fare un mega shortcut perché chiaramente il nether è 8 volte più piccolo e quindi passando da qui avremo una scorciatoia enorme. E come vedete siamo in un altro posto e guardando attraverso questo portale vediamo il portale dall'altra parte e possiamo fare così. Qui inizia a soffrire un po' di lag perché stiamo proprio forzando parecchio la mod. E abbiamo schippato un sacco di blocchi perché l'altro portale che si è generato probabilmente sarà da qualche parte là in fondo. A una distanza 8 volte superiore a questa. Quindi ragazzi, che altro possiamo fare? Ovviamente la domanda successiva potrebbe essere E se metto uno specchio mi riflette anche il contenuto del portale oppure mi si bugga tutto? Ragazzi, secondo voi quale può essere la risposta? Andiamo ad attivare lo specchio. Togliamo l'erba infocata e come vedete lo specchio riflette la mia figura, il portale dietro e tutto ciò che ci sta dentro anche se cambio dimensione. Quanto funziona bene questa mod? Mamma mia! Avete già visto che cosa ho in mano? Quindi ragazzi, inutile prenderci in giro. Andiamo a creare anche un portale dell'end e secondo voi, secondo voi, che cosa può succedere? Guardate qua. Si genera il portale. Ovviamente è laggata tattica perché è inutile nasconderci, ma guardate. Siamo nell'end ragazzi. Questo è l'end. Adesso che si sta caricando va tutto molto meglio. Ed entrando sono finito nel land. Non posso tornare indietro perché chiaramente finché non batti il drago non lo puoi fare. Però adesso noi proviamo a fare un bel kill, chiocciola e type ender dragon. Lo killiamo. Si genera il portale nuovo. E questo qui pare essere il classico di Minecraft perché effettivamente ci porta i titoli di coda. Siete delusi da ciò? Non vi preoccupate perché adesso vi faccio vedere l'ultima feature. Al di là che con la creativa posso fare questo, tipo spaccare dei blocchi a una distanza siderale. Non so se state vedendo, ma sto spaccando quell'albero laggiù. Però, vabbè, questo è un piccolo dettaglio. In realtà ci sono altre due cose che vi devo far vedere, ragazzi. Qua tendo a dimenticarmi. Farebbe comodo tipparci a 0, 0. Quindi andiamo a 0, 0. Eccoci qua. E andiamo a creare con il comando portal. Mettiamo border set. E poi mettiamo, ad esempio, coordinata x10, coordinata z10, coordinata x2-10 e z-10. Avvio il comando. Ragazzi, crash al gioco. E qua forse ho esagerato un po'. Ok, questa cosa funziona, ma fa laggare tantissimo. Perché adesso lo sto facendo in un mondo super flat per farvi capire. Guardate quanto lagga. Praticamente tu selezioni una sezione del mondo e questa sezione viene ripetuta in un loop infinito. Se io adesso mi spostassi, guardate, sembrano delle diapositive talmente lagga, ma sono incastrato in un loop eterno. Non posso mai uscire da questa zona. E lo notate dalla diorite che viene ripetuta all'infinito e ha lo stesso slime che viene ripetuta all'infinito. Effettivamente, se non ci fossero le entità, sarebbe tutto molto più leggero. Però le entità esistono, quindi ce la portiamo a casa. Infine, ragazzi, una delle feature più belle è probabilmente questa. L'ultima che vi faccio vedere. Comando portal. Questa cosa la potete fare anche dal menu di creazione del mondo. C'è proprio un'opzione dedicata che si chiama Dimension Stack, se non ricordo male. Comunque, con il comando portal connect guardate, connect abbiamo quattro opzioni. Possiamo connettere il soffitto, il pavimento, oppure rimuovere il primo o il secondo. Noi andiamo a fare connect floor e mettiamo Minecraft Overworld che è la dimensione di partenza, quindi quella che c'è ora e mandiamo al Minecraft The Nether che è la dimensione appunto dell'inferno, il Nether. Ragazzi, non è successo niente, direte voi? Guardate che cosa è successo. Se io vado a scavare sottoterra con molta pazienza arriveremo al limite del mondo dove c'è la bedrock. Ma sotto la bedrock non ci sarà il void. E considerate che la bedrock può essere sostituita per mettere ad esempio dell'ossidiana o altro. scavando ancora siamo finiti nel Nether. Ragazzi, se non ci credete io continuo a scavare. Guardate, è tutto diretto. Siamo nel Nether. E questa è l'opzione che vi dicevo. Andando in questo nella creazione del mondo potete selezionare qui e come vedete abilitare il dimension stack e inserire delle dimensioni o rimuoverle. Qua dentro potete creare quindi dei layer di dimensioni una sopra l'altra nel modo che preferite tipo abbiamo l'overworld sotto il nether e andiamo a mettere sopra l'end. Ok? Mettiamo sopra l'end poi torniamo indietro mettiamo creativa generiamo il mondo per vedere. Potete farlo non solo con le dimensioni vanilla ma anche le dimensioni delle mod. quindi potete mettere la dimensioni di una mod che volete sopra o sotto il vostro mondo. Guardate sopra di me c'è l'end così si genera sul cielo l'end è un po' brutto a vedersi però le isole del land nel cielo e ovviamente sotto terra come già visto prima andiamo direttamente nel nether e come vedete in questo caso ci ha messo il layer di ossidiana per rendere tutto survival friendly. Come vedete in questo modo abbiamo automatizzato tutto il processo neanche vi sto a chiedere se vi piace o meno questa mod perché è oggettivamente fantastica magari può non essere utile per alcuni e probabilmente potrebbe effettivamente non esserlo però ha delle feature che sono davvero molto interessanti quindi vi lascio il download in descrizione vi invito a lasciare un like e noi ci vediamo stasera alle 20.30 in live e sul canale secondario di Edzalb con un nuovo video. Un saluto da Aaron Blaze ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Sì